Il Green Pass non deve essere interpretato come una clava, come un impedimento alle attività, soprattutto delle attività economiche. Il Green Pass che cos'è? È la certificazione che mi sono vaccinato in seconda dose e quindi è la possibilità, in senso premiale, che io posso fare sempre di più. Poi, se il governante, il politico, il decisore decide di modularlo, questo ci sta, è attivare il buonsenso. Io credo che in talunni casi deve essere obbligatorio. Puoi farci un esempio? Per esempio, noi stiamo pagando in questi giorni lo scotto degli europei. Io personalmente avevo sottoscritto un documento in cui si diceva che bisognava andare allo stadio se o eri vaccinato in doppia dose o se avevi fatto il tampone del re negativo. Ci siamo ritrovati con folle enormi. Sono state controllate? Allora, il problema è superare l'egoismo. Ora, io mi sono speso da tempo perché il Green Pass venga dato a chi si è vaccinato in doppia dose, ma per un motivo semplice. Anche qui bisogna andare alla sostanza. Qual è la sostanza? È che se io mi vaccino in doppia dose sono molto più protetto. Se mi vaccino con una sola dose, evidentemente sono meno protetto. Se lei chiede all'uomo che si occupa di questo, della scienza, io dico che noi dobbiamo avere il Green Pass se siamo vaccinati in doppia dose. Dobbiamo fare di tutto. Oggi è giusto però che il virus non circoli e quindi che noi non siamo inconsapevolmente vettori della circolazione del virus. Perciò bisogna vaccinarli i giovani dai 12 anni in su. Questa è la mia personale posizione. Dai 12 anni in su assolutamente sì. Sotto i 12 anni perché no? Non perché per un capriccio, ma perché abbiamo visto che sotto i 12 anni non solo la malattia, ma anche il contagio è statisticamente irrilevante. Se oggi il tema sono i giovani, allora facciamo un progetto obiettivo per i giovani. Apriamo tutti i nostri centri vaccinali e vacciniamo massimamente i giovani, che ovviamente si vogliono vaccinare senza l'esaglio, sono contrario agli obblighi. Tutti i nostri servizi, tutti i nostri centri vaccinali, nelle città, ma anche nei luoghi di vacanza, di villaggiature, siano aperti per vaccinare i giovani. Poniamo i giovani in sicurezza. Grazie.